La promozione della cultura e la tutela del patrimonio artistico rappresentano un asse formidabile per il futuro del nostro Paese. Ci vuole spiegare perché? Certo, la partecipazione culturale in tutte le sue forme è da una parte un fattore di coesione sociale e anche di costruzione del senso civico. Per esempio, rispetto al paesaggio, rispetto al patrimonio culturale, è importante che i cittadini sentano questa appartenenza. E poi sono un fattore di crescita perché ovviamente le competenze che si acquistano attraverso la partecipazione culturale, attraverso i livelli di istruzione, sono uno strumento importante per poter contribuire alla costruzione della società della conoscenza, dell'economia della conoscenza. Il dato interessante che mi sembra emerga in questi ultimi mesi è che rispetto a una situazione di storico ritardo del nostro Paese, finalmente si comincia a ridurre un po' il divario rispetto al resto dell'Europa e al resto dei Paesi OX e quindi forse stiamo imboccando la strada giusta. Quindi vediamo margini di miglioramento? Direi di sì, direi di sì. Grazie